Bene, una pagina sportiva, in studio il nostro Massimo Profetta per questa settimana, per questi giorni intensi tra calcio-mercato e derby dell'Adriatico all'Orizzonte in Serie C. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in Visione d'Ascolto. Intanto ricordiamo Pescara Pineto sabato in diretta in chiaro su Rete 8 a partire dalle 19.45. Ci sarà un corposo pre-gara. Per quanto riguarda le ultime di mercato non ci sono novità ad oggi. Domani la sessione invernale terminerà alle ore 20. Faremo anche uno speciale telenovela, potremmo definirla così. Sasanelli, il giocatore dell'Andrea, classe 2004, che vuole fortissimamente Pescara in scadenza con il club pugliese. Stiamo vedendo qualche gol realizzato quest'anno. Ne ha fatti sette con la maglia dell'Andrea, giovanissimo, insomma, 19 anni. E in scadenza, ripetiamo, con l'Andrea. Non vuole rinnovare, però c'è un botta e risposta tra le due società. Un'offerta ulteriore fatta nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30. E ho parlato anche con il direttore sportivo dell'Andrea, Savino Daleno, fatta dal Pescara all'Andrea. Si attende ancora la risposta del presidente dell'Andrea, Di Benedetto. L'alternativa, quelle potrebbe essere, forse, insomma, se ne parla da giorni, Cernigoi, in forza alla Rimini, che però non vuole tornare. Si tratterebbe, infatti, di un ritorno in prestito. Cernigoi ha un contratto con il club romagnolo sino al 30 giugno 2025. Sasanelli può arrivare comunque a luglio perché in scadenza non rinnoverà e quindi potrebbe già firmare, se le cose si dovessero risolvere entro le 20 di domani, il 2 febbraio per il Pescara. C'è già l'accordo verbale con il ragazzo sino al 30 giugno 2027. Si deve fare anche una mezzala, insomma, proverà a chiudere per una mezzala il Pescara. Si fa il nome, è tornato in auge il nome di Meazzi dell'Entella, classe 2001. Anche Meazzi, Carmine, non vuole rinnovare con l'Entella. È cresciuto nel club Ligure, gioca da tanti anni, è giovanissimo, ho tanta presenza in prima squadra, vuole provare un'altra esperienza e già d'accordo col Pescara, 30 giugno 2026, e l'accordo naturalmente è verbale, potrebbe firmare il 2 febbraio se l'Entella non dovesse dare l'ok al trasferimento per il club Biancazzurro. Insomma, sono ore e ore frenetiche e vedremo quello che succederà. Ho qui il nostro sito, il primo allenamento per Andrea Capone, altra notizia delle ultime ore. Assolutamente, sì, perché diciamo che è stata la sorpresa del pomeriggio di ieri, intorno alle 18 abbiamo scritto una notizia sul nostro sito. Andrea Capone, che è fratello di Cristian Capone, classe 99, che ha già giocato con il Pescara, 60 presenze e 8 gol in passato. Andrea Capone, cresciuto nelle giovanili del Milan, è un esterno d'attacco di piede destro, classe 2002, più giovane del fratello. Si è infortunato gravemente al ginocchio, questo dobbiamo dire, proprio per essere ancora più precisi, nell'aprile del 2022, quindi quasi due anni fa. Il legamento del crociato giocava nella primavera del Milan, negli ultimi due anni purtroppo ha giocato soltanto tre minuti con il club croato dell'NK, aspetta che mi devo ricordare il nome di questo sodalizio, Barazzin, che è praticamente il club dal quale si è svincolato. Massimo, tutti ci chiediamo adesso con tutti questi nuovi volti, queste novità di mercato, ci saranno novità a tuo avviso? Ancora non facile prevederlo. Nell'assetto del Pescara, nel derby con il Pineto sabato prossimo, Zeman mischierà le carte, confermerà l'assetto delle ultime due gare vittoriose dei Biancazzurri. Un tuo pronostico, al momento si può solo ipotizzare qualcosa. Guarda, io ti dico che intanto torna a disposizione Pellacani, che è sicuramente un recupero importante. Bisogna capire, Pellacani si è infortunato al menisco, è stato operato prima di Natale dal dottor Tavoglieri, menisco interno del ginocchio destro, quindi bisogna capire se Zeman lo lancerà da subito, dal primo minuto. Stanno facendo bene sia Brosco, soprattutto Di Pasquale, Di Pasquale che sta guidando da leader il reparto arretrato. Stanno bene sia da gasso che squizzato, quindi squizzato probabilmente tornerà da titolare nel ruolo di regista. Davanti invece sappiamo, senza Di Vergani non c'è a Cornero. Purtroppo a Cornero dovrà saltare anche le sfide contro Gubbio e Spall per un stiramento al collaterale del ginocchio, una ricaduta per il giocatore di proprietà del Genoa. Quindi io dico, sicuramente squizzato in cabina di regia, vedremo Pellacani e poi per il resto più o meno la formazione che ha battuto nell'ultimo turno il sesto di Levante. Grazie Massimo. Ricordiamo, lo hai già fatto tu in apertura, due appuntamenti in diretta. Speciale calciomercato domani sera a ridosso delle 20, proprio dal gong della chiusura delle trattative. Sarai nei nostri studi proprio a commentare le novità che arriveranno da Milano in tempo reale. Poi naturalmente sabato la grande serata di calcio in omaggio ai nostri telespettatori e ai tifosi. Naturalmente ricordiamo anche la squalifica di Franchini. Sì, è importante. E infatti, quindi insomma, si profila una grande settimana anche di eventi televisivi su Rete8, oltre che di eventi calcistici nella nostra regione.